Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo video. Andremo a fare una linguina all'arancia con gamberi e vongole. Ora vi faccio vedere. Allora, iniziamo subito. Padella sul fuoco e olio extra, abbondante. Adesso andiamo ad aggiungere dell'aglio. Lo facciamo bel agliato e dopodiché lo andiamo a tirar via. Facciamo un attimino imbrunire l'aglio. Adesso iniziamo a calare le nostre vongole. Facciamole aprire tutte, anche se un po' sono già aperte. Copriamo con un coperchio per due minuti. Ok, vediamo. Perfetto, sono completamente pronte. Adesso metà le andiamo a levare dal guscio e quelle più belle le lasceremo con il guscio. Ora vi faccio vedere. Allora, abbiamo lasciato un po' di vongole con il guscio, un po' le abbiamo colte il guscio e qua sono i gusci e ho tolto anche le teste d'aglio. Ora vi faccio vedere il proseguo. Allora, nell'olio di prima, tagliamo dentro un po' di pomodori tagliati, così. A questo punto, così, andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo tritato, per dare un bel po' di colore. A questo punto, andiamo ad aggiungere un po' di pepe, non troppo, ma neanche poco. A questo punto, andiamo ad aggiungere i nostri gamboli. Adesso, chiudiamo e lasciamo cuocere per 5 minuti. Andiamo ad aprire, vediamo... Ah, che spettacolo! Che spettacolo e che profumino! Adesso, andiamo ad aggiungere dentro le vongole, quelle che abbiamo tolto il guscio. Ora vi faccio vedere. Ed eccole qua. Che spettacolo! Adesso abbassiamo il fuoco. Allora, adesso siamo andati a spegnere il fuoco e lo lasciamo in stand-by. Vi faccio vedere. Lo lasciamo così, fermo. Adesso sta finendo di sobollire e abbiamo spento. Andiamo a cadere la pasta e lo andiamo a riaccendere un attimo, non appena la pasta è pronta. Ma guardate quanto è bella! Ma quanto è bella questa pasta all'arancia! Un spettacolo! Prendiamo la nostra pasta e la andiamo a mettere qui, nella nostra padella. Mettiamo anche il resto delle vongole. E adesso facciamo saltare un po' con l'acqua di cottura. E adesso così lo andiamo a saltare un po' con l'acqua di cottura. Ed ecco qua la nostra pasta. Guardate che bella! Cioè, è uno spettacolo! Bella! Ed ecco qua ragazzi il nostro piatto finito. Adesso andiamo all'assaggio e vi faccio il papà. Tagliatella all'arancia. Con il vongole e gamberi. Buonissimo! Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e seguitemi!